ma ci sentiamo particolarmente bene tra l'altro quest'anno abbiamo ripreso il tour alla grande cosa che per scontato negli ultimi anni visto quello che è successo quindi il fatto che da quest'anno abbiamo ripreso a pieno regime per noi è stato estremamente importante perché era molto semplice era molto semplice cadere nel tranello di non aver più voglia di uscire andare a sentire concerti tutto dopo il covid quindi il fatto che ci sia così tanta voglia e i concerti addirittura si incominciano a vedere gli insospettabili quelli che normalmente non si vedeva nei concerti prima del del covid a noi fa particolarmente piacere non so nemmeno a che scena apparteniamo noi noi scherzosamente diciamo sempre che facciamo cantautorato spinto perché in realtà nella nostra nella nostra nella nostra carriera abbiamo sempre affrontato il processo compositivo in modo estremamente libero non so non penso che si possa non ci sentiamo far parte di far parte di una scena perché fondamentalmente abbiamo sempre abbracciato la composizione in modo molto libero quindi forse un bene forse un male però è andata così i nostri amici pancreas vanno avanti da una vita ormai molto più tempo di noi quindi i fatti parlano e anche gli scape gli scape non era così scontato che diventasse una hit ti posso raccontare un aneddoto che noi l'abbiamo suonata a milano e ci hanno tirato le pietre mentre la suonavamo quindi prima che uscisse il video quindi in realtà il segreto è la diffusione mediatica non è la scelta delle persone in quel periodo lì la gente era molto attaccata a cosa stava passando in quel momento lì quindi sicuramente quel brano lì ha delle qualità però è stato merito comunque anche della diffusione mediatica di quel periodo e la gente che ha avuto l'opportunità di sentirla non attraverso un concerto ma attraverso comunque la tv e la radio è assolutamente sì si è stata proposta più e più volte da mtv quell'anno lì 2003 se ricordo bene e fu il pezzo il pezzo più passato del 2003 c'eravamo noi poi secondi in classifica gli u2 e terzo vasco rossi se mi ricordo bene ma quel pezzo lì era per quanto mi riguarda quando abbiamo sentito subito dopo dopo averlo registrato era era per noi era una bomba a me davano emozioni che che non mi davano altri tantissimi altri pezzi quindi la gente il pubblico da noi si aspettava tutt'altro probabilmente in quel momento lì poi questo pezzo ha avuto spazio ha avuto la possibilità di farsi ascoltare ed è uscito ed è andato è partito infatti molti conoscono il pezzo non conoscono noi come band quindi vuol dire che quando un pezzo arriva a quel punto che conoscono la canzone e non conoscono il nome della chi l'ha fatta vuol dire che è proprio uscita dal da 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 ogni limite da c'è da ogni è arrivata a tutti e tuttora funziona la grande è stata una sorpresa anche per noi anche se pensavamo che sarebbe stato un bel pezzo ecco sono brani che sono brani che sono rimasti e ce li portiamo addosso molto volentieri li proponiamo sempre perché comunque tra l'altro quest'anno fa vent'anni il 16 novembre del 16 novembre fa vent'anni poi tu hai detto abbiamo cambiato pelle mi senti mi senti ok tu hai detto non abbiamo cambiato pelle abbiamo cambiato tutto e rifatto tutto ricambiato tutto di nuovo nel senso che noi non abbiamo non ci siamo mai inquadrati in qualche cosa noi abbiamo sempre fatto musica per piacere per passione e quello che usciva sempre qualcosa di diverso di di cioè in qualche modo c'era un'evoluzione e quindi cioè noi la gente però ci riconosce in qualsiasi cosa facciamo quindi è buono vuol dire che c'è la nostra firma siamo originali ecco quello che ci dicono le persone originale il senso che siamo con quello che facciamo riconducibile al nostro nome per quello originale non che siamo dei geni originali in quel senso lì certo adesso noi stiamo portando ancora in giro e mescla tour di fatto materiale ce n'è io e il signor di muzio dobbiamo vederci per mettere assieme un po di idee pensiamo di farlo questo autunno perché volevamo farlo prima ma quest'estate siamo così tanto in giro che non riusciamo a vederci e concretizzare noi scriviamo in continuazione materiale poi il momento in cui cioè prendiamo il momento adatto per vederci e tirare giù quello che abbiamo ideato nei mesi anche durante i tour in qualsiasi momento noi abbiamo fatto una cosa come hai detto tu prima noi siamo passati da due o tre singoli ska punk a un brano completamente diverso quindi è un'anomalia discografica quella il fatto che tu sia in grado di riconfermarti con una cosa diversa è un'anomalia quindi siamo stati avvicinati però noi abbiamo sempre pensato che molto probabilmente saremmo scomparsi se avessimo seguito delle orme non nostre perché quando entri in un turbine di noi tra l'altro siamo veramente indipendenti artigianato discografico quasi quindi se noi avessimo firmato con una major molto probabilmente dopo con quello che abbiamo fatto anche dopo dopo due dischi saremmo morti quindi noi abbiamo continuato sempre con la nostra strada indipendente e io consiglio sempre di di provarci in qualche modo di non aspettare uno che ti citofoni a casa per farti firmare un contratto discografico anche ragazzi ai giovani nuovi senso soprattutto poi si è perso anche molto il concetto di indipendente l'indipendente è diventato qualcosa che non è neanche più indipendente quindi vuoi aggiungere qualcos'altro no no poi dipende un po dai caratteri dal dal dalla natura delle band noi abbiamo una natura non ribelle ma indipendente si nel vero senso della parola non credo che saremo stati in grado di seguire delle dei paletti o delle direttive perché non avrebbe snaturato la nostra idea di musica è la nostra idea di musica è un po anni 70 libertà totale a prescindere dai guadagni a prescindere dal lavoro nel senso noi non abbiamo mai pensato facciamo questo di lavoro noi abbiamo sempre pensato facciamo musica per piacere per divertimento è diventato un lavoro benissimo cosa incredibile stupenda nella nostra vita però anche anche in questo ambito qua non saremo mai stati capaci di lavorare in funzione del guadagno dei soldi cosa che fanno in tanti non dico che sia sbagliato è cioè ognuno può fare esattamente quello che vuole se vuole guadagnare dei soldi facendo tre note e perché glielo dicono di farle non dico che sia uno stronzo assolutamente no ognuno ha il suo modo di vivere la musica e il nostro modo è quello del vogliamo essere sereni a sperimentare noi siamo cioè sperimentiamo abbiamo sperimentato tantissimo se poi funziona cioè quello che poi ha funzionato nella nostra carriera è stato il fatto che la gente ha capito questo la nostra sincerità la nostra voglia di fare musica a prescindere da tutto e questa è l'indipendenza secondo me questa cosa i suoi pro e i suoi contro è nel senso che i contro cioè abbiamo rischiato di morire nonostante tu abbiamo rischiato anche di morire col furgone perché no quello è vero no il furgone no abbiamo rischiato però abbiamo rischiato anche di fare delle cose belle e le stiamo facendo poi alla fine dopo 25 anni siamo qui abbiamo un tour di ancora 30 40 date fino a settembre ottobre le cose funzionano e la gente le persone chi ci vuole ci viene ascoltare lo capisce e sta diventando una grandissima famiglia ed è una cosa bellissima le persone che ci vedono ritornano come in un buon ristorante vuol dire che hanno mangiato se hanno ascoltato semplice ma buono